Appassionato di montagna, esperto escursionista, Ermanno Brivio, 75 anni, conosceva bene le vette lecchesi. Casa Merone, in provincia di Como, originario di Besana Brianza, era uscito nella tarda mattinata di ieri per un'escursione sul Cornizzolo. Il mancato rientro all'ora di cena e la richiesta di intervento dei parenti allarmati ha fatto scattare le ricerche in serata che si sono concluse nel più tragico dei modi. Il suo corpo è stato rinvenuto nella zona del Corno Birone, lungo il sentiero verso il Monte Rai. I medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, vittima con tutta probabilità di una caduta fatale. Alla Task Force hanno partecipato una quindicina di tecnici del soccorso alpino della stazione del Triangolo Lariano, della diciannovesima delegazione, i vigili del fuoco di una squadra SAF Spello Alpino Fluviale del Comando Provinciale di Lecco e i sanitari del 118 con l'eleambulanza di Como per una ricognizione aerea e notturna. Il buio e il terreno molto impervio hanno reso particolarmente difficile la missione sia di ricerca sia di recupero della salma. Il corpo è stato imbarellato, poi con una serie di salite in contrappeso e una calata con barella portantina è stato portato verso valle. L'uomo, che era uscito da solo, conosceva molto bene il posto. In corso di accertamento alla ricostruzione della dinamica dell'incidente, le operazioni si sono concluse intorno alle due di notte.